cari bambini lontani e vicini quelli più grandi ma anche quelli piccini è quasi il tempo di ripartire ma forse ancora non ci potremo vedere siete stati spesso nei nostri pensieri quelli di oggi e quelli di ieri abbiamo pensato che cosa fare giochi o storie da raccontare ma poi la rete è piena di cose così e allora abbiamo detto stop saliamoci qui in fondo un sorriso è una semplice cosa va oltre lo schermo nel cuore si posa è sincero sentito e speriamo gradito se poi tanto grande lo riusciamo a fare molto più vicini vi possiamo arrivare quindi tutti insieme noi sottovoce un grande sorriso per voi mettiamo in luce a 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